Eccoci qui, 11 maggio 2020, ce l'avete fatta, ce l'avete fatta innanzitutto cari genovesi, zombie che non siete altro, nella fase 1 non eravate obbligati a portare la mascherina, nella fase 2, grazie alla vostra collaborazione di pecore ignoranti, la mascherina è obbligatoria come la camicia nera e la tessera di partito. Ringrazio me stessa per averci provato fino ad oggi brutti pezzi di merda, ma oggi sono costretto a andare in posta, a fare un bonifico che non si può fare con l'applicazione delle poste italiane, non funziona quella cazzo di applicazione banco posta, è un anno che cerco soltanto di iscrivermi, ma voi che cazzo me ne frega, l'importante è che tutti mettiamo la mascherina, vero? Bene, io ringrazio me stessa di averci provato dal 23 di febbraio ad oggi, fatevi un po' i conti quanti giorni sono riuscita a non metterla e grazie a me e al fatto che quella mascherina è dannosa per la salute. Me la metterò lo stretto indispensabile perché brutti bastardi non mi farete ammalare di altre infiammazioni soltanto perché siete dei paranoici. Confesso sì, anche la mia collera è senza dubbio paura, paura quanta ne avete voi. Di fronte alla paura ci sono tre possibilità, non ce ne sono altre. O attacchi, o ti paralizzi, o fuggi. Considererò sempre la mia forma di reazione alla paura molto migliore della vostra. Io attacco quando sono spaventata, se mi assale una tigre io mi difendo e probabilmente la coppo anche la tigre. Voi no, voi vi paralizzate, voi fuggite. Avete soltanto la mia compassione, la stessa che ho per me stessa. Proverò a pubblicare sul mio canale e su quello di qualcun altro anche, un'analisi molto seria, molto posata e corretta di una psicoterapeuta che spiega come funziona la manipolazione delle persone attraverso la paura. Noi siamo il popolo più disgraziato della terra perché per essere riusciti a manipolarci in questo modo con la paura vuol dire che non abbiamo risolto i nostri traumi infantili. Io invece su me stessa sono 40 anni che lavoro. Probabilmente non ho ottenuto straordinari risultati dal momento che anche io come voi ho paura ma di voi! Non ho paura di un virus inesistente, non ho paura delle menzogne, ho paura di voi cari genovesi e cari italiani tutti. E guardate che anche quell'1% che apparentemente sembra contrario a tutta questa faccenda. Badate bene anche voi cari dissidenti che io non mi fido di chi mi vuole salvare, non mi fido dei salvatori della patria che vengono a salvare i poveri zombie, non mi fido di Luca Nali, non mi fido dell'ingegner Negri, non mi fido del Morrison e non mi fido del Greg perché sono tutti maschi. Non c'è una sola donna dissidente che venga ascoltata, perché per essere una donna adeguata all'ascolto di questi zombie devi avere delle caratteristiche estetiche che io non ho, vero? Bravi, bravi! Passate tutti una schifosissima giornata, zombie!